Parte il lancio sul mercato europeo della nuova Volkswagen Tiguan, terza generazione completamente riprogettata. Grazie ai chiari progressi nell'aerodinamica e alle soluzioni di trazione all'avanguardia, la nuova Tiguan si presenta come uno dei SUV più efficienti della classe media. Quattro delle otto versioni di motorizzazione sono nuove soluzioni di trazione ibrida. La gamma spazia dai due modelli mild hybrid a 48V e TSI, economici dai consumi ridotti, fino al nuovo livello evolutivo dei due sistemi di trazione ibrida plug-in e hybrid. Con un'autonomia elettrica di circa 100 km, nell'uso quotidiano, le soluzioni di trazione ibrida plug-in fanno della nuova Tiguan un'auto elettrica, mentre sui lunghi tragitti la combinazione tra motore elettrico e nuovo motore turbo benzina da 1,5 litri si distingue per i suoi bassi valori di consumo e un'autonomia totale di oltre 800 km. Il cambio automatico a doppia frizione DSG è inoltre sempre disponibile di serie in tutte le Tiguan. I sistemi di assistenza sono stati sottoposti a perfezionamento e l'ultima versione dell'assistente di parcheggio consente di entrare e uscire dal parcheggio in modo completamente automatico da una distanza massima di 50 metri e di effettuare il parcheggio da remoto tramite smartphone.